Ciao ragazzi, benvenuti a Torstoperez. Stiamo aspettando i fuochi del Redentore. C'è l'argento che mi ha guardato un gran attimo perché stavo si mandando da solo. Stanto per voi. Stanto per farvi capire dove sono. Sono a Veneto. Adesso vi faccio di un secolo l'argento che c'è. Scusatelo, è stato bene. Guardate. Sì, perché mi hanno rotto prima di prendere la polizia. C'era questo che infranciava la vista a una, giustamente. Ripositiamo il tutto. Manca un minuto più o meno. Troppo figuati se non prende tutto. Allora lo posizioniamo così. Sì, altro più o meno. Eccolo! Boia, che puntualità! Abbiamo detto che alle 11 e mezza sparavano. Guardate che ora sono. Che puntualità! Stano! tanto ecco un altro Wow! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Se credo di parlare il meno possibile, gente, però sarà difficile perché mi accetto un casino con queste cose. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Micelli. Questo è grosso. Mi aspettavo di più. Erano tre. Oh! Era normale? Non credo. Vabbè. E' arrivata un'ambulanza. Ehi! Smile! Che puttana! Ehi! 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 Cato per i due lampioni di merda qua davanti però! Ehi! 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 Che f***a! Quando finiscono provo a incitare un applauso mega galarco. Dico così straforte. Più applauso. A sto spettacolo. Ehi! Che f***a! Sembra una cascata verso l'alto. Che si france giustamente nel cielo. Questa era una banda. Questa era una banda. Questa era la banda. Questa era una banda. Cosa era sempreasu Госpasta. L'eva con azure. Ehi! Ehi! Questa er燈a! L'eva con struckasoneau. Ehi! che botta che cazzoia, che botta basta, finito, torniamo a casa bravi Sì Un elefante Un secondo Grita il sonno, aspetta la luce Megabombe Fighi, abbiamo aspettato che fosse solo più casino No, che sticca Che scendono, non so come una scascata Bellissimi, grandi, grandi, grandi Stupendi Cascate Se per strafigo se ne mette C'essero un migliaio E vedere l'intero cielo in cascata Così Guardate che figata Ciao Perfetto Guardate che figata Quanto cazzo illuminano Quanto cazzo Ehi, la madonna Minchia Che botta Che figata Sembrano corriandoli Bellissimi, bellissimi, bellissimi E state vedendo quanto cazzo illuminano sti fuori Dio buon Madonna Se mezzo mondo viene qua, ci sarà il motivo Dio buon 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 Sì, 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 sì. che figata il ritmo una piccola piccola lucetta una piccola piccola una piccola piccola una piccola piccola un po' 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 no 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 Oh, veramente c'è un po' questo, cazzo, no. Trippabumba, forse. Mini tonnada. Perché non lo so le unirsi. Mini tonnada. Mini tonnada vuol dire botta, cioè colpo forte, in dialetto Veneto. Ma guardate che figata. Sto riprenderlo bene, spero. Sì. Ma te odi, galera. Mi prendi? No. Sì. Bravi, bravi, bravi Bravi, bravi Bravi, bravi 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 Bella Madonna Belliot 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 Sì, cazza, fioi! Sì, cazza! Sì, cazza, fioi! 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 Sì, cazza! Sì, cazza! Sì, cazza! Sì, cazza! Sì, cazza, fioi! Sì, cazza! Sì, cazza, fioi! Sì, cazza! Sì, cazza! Sì, cazza! Sì, cazza, fioi! Sì, cazza! 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 3 3 3 4 5 5 8 8 10 11 12 13 15 15 Basso! Ca troia! Bello! Che borde! Oglia! Cioè, state vedendo quanto illumina! Queste erano quelle di Puglia! Queste in Puglia uguali! Erano pochi giorni per quello che facciano così! Finisco, sta per finire! Quando fanno così non è che sta per finire! Ok! Ok le Puglia! Sembra tipo la banda con la batteria! Ecco appunto! A kio! Kio, file, 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 file! Oh boia! Mega applauso, fioi! Uno! Due! E tre! Fine! Bravi! Bella, torniamo tutti a casa! Sarà leggermente difficile, vi faccio vedere anche il perché! Allora ragazzi, 44 minuti di fuochi, ci vediamo con il prossimo spettacolo, saga del riso in agosto. Grazie per aver seguito, alla prossima!